Il recente parto avvenuto alla Garibaldinesima è un evento che ha un significato tra il clamoroso e il miracolo. Indubbiamente non conoscere i cambiamenti nel proprio corpo e non rilevarli in questi mesi di gravidanza, riteniamo almeno 8, di questa gestante, ci impone di fare alcune riflessioni di carattere prettamente organizzativo, sociale, culturale in merito a quelle che sono spesso le informazioni che purtroppo sono carenti e di come alcuni cambiamenti del proprio corpo non vengono rilevati e non sono suscettibili di indicazioni a eseguire dei controlli adeguati per far sì che si venga a conoscenza nei tempi e nei modi dovuti.